Ben ritrovati a tutti Ottoliners, oggi abbiamo il piacere di riavere come ospite Giuseppe De Ruvo che è già stato presente qui a una puntata di Ottosofia per presentare il suo libro da Hegel a TikTok e oggi invece l'abbiamo invitato per parlare di un articolo che ha recentemente pubblicato sull'ultimo numero di Limes una certa idea d'Italia, l'articolo si intitola Il vincolo esterno non è un destino e appunto ha tirato molto la nostra attenzione per questa definizione che non è un destino e quindi appunto poi Giuseppe ci darà ragione della scelta di questo titolo e intanto grazie mille Giuseppe per aver accettato il nostro invito e ben ritrovato. Grazie a voi, grazie a voi, sempre un piacere. Allora senti, la tua analisi parte dal presupposto che in questa nuova condizione, in questa nuova situazione geopolitica si stanno aprendo per l'Italia enormi finestre d'opportunità, data la transizione verso un mondo multipolare e dato il necessario disimpegno americano in certe aree per noi vitali come appunto il Mediterraneo e il Medioceano. Il tema però fondamentale del tuo articolo è questo, cioè che noi rischiamo di non riuscire a cogliere queste opportunità se prima non ci liberiamo della cosiddetta cultura del vincolo esterno, che è anche un po' diciamo la cultura del suddito, aggiungo io, che ci porta ad assistere a questo passaggio d'epoca con uno sguardo pieno di timore, no? Tu scrivi, quindi senza intravedere l'opportunità che invece questa crisi in qualche modo ci dà e sperando sempre di essere salvati da qualcun altro. E quindi poi il tuo articolo in qualche modo approfondisce appunto dal punto di vista culturale questo tema del vincolo, questo tema del vincolo esterno. E quindi ti chiederei subito che cosa intendi per cultura del vincolo esterno? Allora sì, intanto grazie mille per le domande, sono contento che l'articolo in qualche modo possa mettere in atto una qualche forma di dibattito, anche se nel nostro piccolo, però in questo paese, perché effettivamente come scrivo nel pezzo, il punto di partenza è che stiamo assistendo a una fase in cui le vecchie certezze stiano, stanno sicuramente venendo meno. Non sono così sicuro che la direzione verso cui stiamo andando è quella di un mondo multipolare, nel senso che mi sembra questa un'espressione a volte che voglia dire un po' tutto e niente, perché di fatto il mondo è già multipolare, era multipolare il mondo della guerra fredda dove c'erano due superpotenze, ma multipolarismo tendenzialmente, per come lo vedo io, tende a rigirarsi in dominio effettivo del caos, piuttosto che su divisione ordinata del mondo in sfere di influenza, o almeno non mi sembra questo multipolarismo quello verso cui stiamo andando. Però il problema è esattamente questo, cioè siamo in una situazione in cui i vecchi vincoli che tenevano insieme lo scacchiere geopolitico si stanno letteralmente sciogliendo, perché da un punto di vista ovviamente italiano, l'America, a cui peraltro dedicheremo il prossimo numero di Limes che esce, che uscirà ad aprile e che è proprio letto in continuità con il numero sull'Italia, l'America è in crisi sotto molteplici punti di vista, è in crisi da un punto di vista direi esistenziale, ideologico, identitario, gli americani si chiedono chi siamo e danno 25 risposte diverse a essere buoni. È in crisi da un punto di vista produttivo, l'industria della difesa ha enormi difficoltà, la macchina bellica ha enormi difficoltà, la mano d'opera specializzata in alcuni settori strategici come ad esempio quello tecnologico, in particolare la produzione di microchip è in clamorosa difficoltà, ciò nonostante rimane il paese più potente al mondo che però pare non riuscire, non volere, non voler continuare a esercitare un tipo di egemonia assoluta come l'ha gestita nei trent'anni che sono appena trascorsi. Contestualmente questo per noi si riflette in un problema particolarmente importante perché noi insomma come è noto abbiamo fondamentalmente delegato la nostra politica estera agli Stati Uniti d'America in cambio dell'aiuto nella ricostruzione economica del paese nel secondo dopoguerra e di fatto abbiamo smesso di investire nell'industria bellica, dunque siamo totalmente impreparati, saremmo totalmente impreparati in caso di guerra, ma appunto tutto ciò era pensato nella consapevolezza che qualora ci fosse stata una guerra gli americani sarebbero corsi in nostro soccorso. Non escludo che ciò sia ancora possibile, tuttavia non è scontato come poteva essere scontato qualche decennio fa. Quindi vincolo americano in crisi. D'altro canto c'è poi il vincolo europeo che è probabilmente il vincolo di cui si parla di più nell'opinione pubblica anche perché a differenza del vincolo americano che come posso dire c'è sempre stato un dibattito, chi gli piacciono gli americani, chi non gli piacciono, ma insomma queste sono discussioni che lasciano anche un po' il tempo che trovano, perché poi di fatto la situazione è quella. Il vincolo europeo tendenzialmente è stato dipinto nella storia del nostro paese, nella storia dell'integrazione europea come un qualcosa di necessario per salvare il nostro paese da se stesso. Dunque l'Europa, questa cosa cerco anche di argomentarla nell'articolo, poi magari lo sviscelliamo meglio, l'Europa veniva intesa come un luogo all'interno del quale gli interessi italiani sarebbero stati sublimati all'interno di una più alta comunità di destino europea, comunità di destino europea che non avrebbe potuto fare altro che risolvere quei problemi strutturali, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista economico, che gli italiani da soli non riuscivano a risolvere. Ecco, il vincolo europeo oggi è in crisi, non è semplicemente in crisi perché è in crisi l'Europa così come se fosse un'entità astratta, ma è in crisi perché sono in crisi i due paesi che di fatto hanno guidato, oltre agli Stati Uniti, che però come abbiamo già detto sono in crisi, sono in crisi i due paesi europei che hanno guidato il processo di integrazione europea, cioè Francia e Germania. Germania chiaramente è il motore economico dell'Unione, ma comincia in questa fase caratterizzata dal ritorno della guerra in Europa, fattore che i tedeschi avevano di fatto espulso, non tanto dalla loro coscienza, ma proprio non lo contemplavano come una possibilità reale dopo la caduta del muro e la rinificazione delle due Germanie, rinificazione peraltro avvenuta più sulla carta che poi nei fatti. La Germania, diciamo, sconvolta da questo ritorno della guerra in Europa che l'ha obbligata, peraltro, a tagliare i rapporti con un paese come la Russia da cui, se avete tutto quanto il discorso di Nord Stream, da cui prendeva il gas necessario per mettere in moto la sua industria e garantire dunque il surplus commerciale che gli permetteva poi di generare una sfera di influenza geoeconomica, venuta meno questa congiuntura, la Germania entra in crisi. C'è chi dice che dobbiamo assolutamente riallacciare i rapporti con la Russia, dal punto di vista tedesco ovviamente, per esempio Scholz è uno che non ha l'intenzione di far vivere questa separazione tra Russia e Germania per sempre e invece chi dall'altra parte dice no, come per esempio la von der Leyen, considera questa frattura assolutamente irreversibile. A ciò si associano poi e si aggiungono tutta quanto una serie di contraddizioni interne di cui la crescita del partito, non so nemmeno se definirlo neonazista, comunque di Alternative Furdeutschland è più che altro sintomo, tendenze disgreganti, tendenze caratterizzate da una certa nostalgia dell'est, i tedeschi la chiamano ostalgie, che fa sì che addirittura i tedeschi cominciano a ragionare seriamente, anche per adesso solo a livello dialettico, di uscita dall'Europa, il che però significherebbe in realtà, ben guardare, uscire da quel vestito che è il vestito europeo, che ha permesso a Berlino di portare avanti dei concreti interessi tendenzialmente geoeconomici, non direi geopolitici, senza però, come dire, farli passare per una politica di potenza che avrebbe risvegliato nelle menti dei tedeschi, avrebbe direi disseppellito dei rimossi quasi freudianamente che invece appunto i tedeschi cercano giustamente direi anche di reprimere. Questo quindi per quanto riguarda la Germania, è un paese in crisi, spaccato al suo interno, in cui addirittura si mette in dubbio l'esistenza di quella struttura dell'Unione Europea che gli ha garantito di rifarsi una verginità politica, diciamola così, per essere proprio brutali. Secondo me esistente della Francia. Mi senti interno? Sì. Adesso sì. Ah, ok. No, perché prima avevo appunto, ti stavo fermando un attimo, ma forse non, forse non mi sentivi. Volevo aggiungere appunto una cosa rispetto a quello che dicevi, no? Cioè per ristendere questo discorso della cultura, del vincolo esterno, te ora giustamente richiamavi un po' anche tutte quelle sono le condizioni geopolitiche, geostrategiche attuali, non solo dell'Italia, dell'Europa, e quindi mi veniva da dirti, cioè uno dei problemi fondamentali è anche che anche l'Europa stessa ha interiorizzato il vincolo esterno, no? Cioè pensiamo anche alla Germania, magari ecco, non troppo rispetto probabilmente ai partner europei, però sicuramente rispetto agli Stati Uniti, e questo è un problema che forse si, in qualche modo, si accavalla e questa cultura del vincolo esterno poi la si ritrova diciamo anche in forme sicuramente diverse, però a livello comunitario, a livello dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. Allora, io direi di sì sotto certi aspetti, nel senso che tutte quante le cancelle degli europee sono perfettamente consapevoli che l'Unione Europea non sarebbe esistita senza gli Stati Uniti. Cioè l'Unione Europea è figlia degli stracitati Adenauer, De Gasperi, Schumann, eccetera. Sì, ma è anche figlia soprattutto di Truman, è figlia soprattutto di una strategia di contenimento della Russia, dell'Unione Sovietica ai tempi, portata avanti dagli Stati Uniti. Ecco, però non direi che Francia e Germania vivono il vincolo americano come l'abbiamo vissuto noi. Per motivi estremamente diversi, innanzitutto i francesi, a parte che si considerano poi i primi della classe, i maestri degli americani, a volte scherzando loro dicono di essere più americani degli americani, chiaramente tutti intendendo che gli americani sono francesi. E comunque hanno la tentazione, almeno formalmente, anche per i poteri che ha il presidente francese, per l'essere di fatto un presidente dotato dei poteri di un monarca, può non occuparsi delle beghe della politica interna per concentrarsi sui massimi sistemi e quindi avere una certa facilità, come abbiamo visto, direi, negli ultimi giorni, nello spararla quanto più grossa possibile. E quindi tendo i francesi da questo punto di vista, anche in virtù di un'enorme idea di sé che hanno, a non far passare un vincolo come quello americano, che comunque esiste e che c'è, anche perché sono una potenza atomica, come una condizione esistenziale e una condizione di possibilità della loro esistenza, come invece facciamo noi. I tedeschi sì, certo, senza dubbio hanno interiorizzato una sorta di vincolo esterno, ma la grande differenza è che americani e tedeschi non si fidano gli uni degli altri. Un ex funzionario tedesco disse all'IMES, parliamo di qualche, forse un annetto fa, che quando i russi devono far sapere qualcosa agli americani, la dicono i tedeschi e viceversa. Cioè sanno perfettamente che se un'informazione finisce in mano, gli americani sanno perfettamente che se un'informazione finisce in mano ai tedeschi, quell'informazione finirà anche in mano ai russi. Cioè non c'è una grande fiducia reciproca tra Germania e Stati Uniti. Peraltro in tutti quanti, come dire, i disegni strategici americani, il worst case scenario, come dicono loro, è quello che vede la Germania accodarsi a un'intesa che può essere composta da russi, cinesi e iraniani. È considerata veramente il ventremolle dell'alleanza la Germania, a differenza nostra che sì, siamo considerati un po' il ventremolle, ma tanto non siamo pericolosi, non abbiamo una vera e propria comprensione forse di queste dinamiche. da questo punto di vista, dunque sì, certo, c'è una presa europea del vincolo esterno, però cinesi e francesi, scusate, tedeschi e francesi, questo è un bel lapsus, tedeschi e francesi hanno un rapporto con gli Stati Uniti e con l'essere nell'impero americano che è completamente diverso rispetto a quello che abbiamo noi. Per noi l'essere nell'impero americano significava mettere totalmente da parte i nostri interessi nazionali, equipararli agli interessi da una parte europei e dall'altra americani e sostanzialmente smettere di fare geopolitiche e strategie. I francesi questo non l'hanno mai fatto, a volte anche con risultati disastrosi, basti pensare alla Libia. I tedeschi hanno di fatto smesso di fare pensiero strategico, questo sicuramente è vero, ma sono sempre rimasti molto scettici nei confronti di un eccessivo dominio americano, soprattutto nella loro postura geoeconomica. I cinesi hanno fatto, ancora l'apsus, i tedeschi hanno fatto grandi affari con i cinesi, si sono totalmente basati sul gas russo da cui non volevano staccarsi e infatti Nord Stream è stato dovuto far saltare, ora non sappiamo da chi, ma qualcuno l'ha fatto saltare perché altrimenti i tedeschi non avrebbero mai, mai rinunciato a quelle forniture. Quindi vincolo sì, ma fino a un certo punto, di certo non profondo come il nostro. Certo, sicuramente in forme diverse. E per quanto ci riguarda, te scrivi però nel tuo articolo, e in questo diciamo secondo me sta un po' il tratto pessimistico del tuo articolo, scrivi che quest'idea secondo la quale, che si è un po' diffusa a livello di psicologia collettiva, secondo la quale l'Italia non sarebbe in grado di badare a se stessa e quindi necessiterebbe costantemente di un tutore o di un salvatore per non finire nel balatro, quest'idea qua appunto in verità ha una profondità storica, cioè è un'idea che si è andata in qualche modo sedimentando, sedimentando nei secoli, no? E che si è forse appunto aggravata dopo l'esperienza fascista, però in questo senso quindi sei in parte anche un po' diciamo pessimista nell'idea di riuscire a invertire questa tendenza culturale. Infatti diciamo così, il titolo dell'articolo è il vincolo esterno non è un destino, ma il non è tra parentesi, perché in realtà se uno volesse fare una lettura storica, deterministica, effettivamente il vincolo esterno è apparso veramente come il destino, proprio nel senso tedesco del termine, cioè un qualcosa a cui noi siamo continuamente rimandati, che quasi destinalmente abbiamo cercato di perseguire. La profondità storica del vincolo esterno è innegabile, del tutto evidente che anche in alcuni elementi che non ho citato nell'articolo ma di cui si potrebbe parlare, chiaramente sì, il mito fondativo o infondante del veltro dantesco e della misteriosa profezia del 510 e 5 è chiaramente sedimentato all'interno della nostra pedagogia nazionale, basta pensare a come viene insegnato il mito del veltro alle scuole elementari e alle scuole medie e al liceo, cioè viene insegnato come appunto l'Italia che aspetta miracolosamente qualcuno che arrivi e la unisca. Però quello che io ho trovato interessante in quel mito non è soltanto l'idea del fatto che deve venire qualcuno a salvarci, quello sì, certamente, è lì che nasce il mito, ma anche che poi il fine, diciamo, messo in luce da Dante in quel mitologema è diventare, come dice lui, giardin dell'imperio. Si parla lì chiaramente dell'impero asburgico, ma è esattamente, se vedete anche l'editoriale del direttore Caracciolo, l'idea del giardin dell'imperio è di fatto la stessa dell'idea del bel paese, cioè un bel posto dove però di fatto si viene sballottolati da una parte all'altra. In questo l'immagine di Dante, l'immagine che Dante dà, paragonando sistematicamente l'Italia a una meretrice, la dice chiara, cioè l'Italia si alterna tra l'essere donna angelica che però se lasciata sola rischia costantemente di trasformarsi in una meretrice. Ma questo è un mitologema che noi poi abbiamo anche tenuto dentro di noi in un'altra fase, nell'articolo non ho trattato, in una fase in cui non c'era l'Italia. Pensate ai comuni dell'Italia, diciamo, tardo-medievale rinascimentale. In quella fase, quando in questi comuni non si riuscivano più a mettere d'accordo, cosa facevano? Chiamavano qualcuno da fuori che doveva mettere ordine nelle, diciamo così, tensioni tra le diverse fazioni all'interno dei comuni. Cioè quest'idea di qualcuno che deve venire da fuori a risolvere il problema è un'idea tipicamente italiana, non si è mai sviluppata in un altro paese europeo, in una maniera così forte, così culturalmente anche rappresentata, Foscolo con Napoleone, per non parlare ancora andando avanti poi di quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche lì, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'idea che il ventennio fascista fosse da considerare o come un'invasione degli Ixos, per dirla alla croce, o al contrario, come un qualcosa di antropologicamente connaturato al popolo italiano, questa menzogna, questa cosa che dovremmo anche cominciare a dire che è una stupidaggine assoluta del fascismo eterno del popolo italiano, non si capisce per quale motivo noi dobbiamo essere fascisti eterni, invece gli altri che hanno fatto cose altrettanto terribili sono invece, si sono trasformati in dei perfetti democratici, invece noi no. Appunto, dicevo, queste due narrazioni, per quanto diverse, perché una interpreta il fascismo in maniera totalmente astorica, sono arrivati da Marte, l'altra la interpreta in maniera profondamente storica, cioè gli italiani sono intrinsecamente fascisti, ecco, queste due letture però convergono in cosa? Nel fatto che dopo l'esperienza fascista ci sia una sorta di ora zero, cioè il popolo italiano deve ricominciare da capo, deve guardare al futuro, perché il passato è di fatto infondante dato che abbiamo avuto il fascismo, dobbiamo smetterla di guardarci, non possiamo cercare dentro di noi un vincolo interno, perché o non esiste questo vincolo interno, perché siamo stati uno stato nato dalla, come direbbe qualcuno, esistevano in quegli anni queste questioni, è stato nato da un'invasione piemontese del sud, oppure da un'altra parte non possiamo guardare al nostro interno perché siamo intrinsecamente fascisti, dunque il nostro passato è squalificato come luogo in cui trovare un vincolo interno, dobbiamo guardare al futuro, chi rappresenta il futuro meglio degli Stati Uniti d'America? Nessuno. Quindi questa è, diciamo, la tesi dell'articolo, era che la nostra adesione all'impero americano non ha soltanto una dimensione che pure è estremamente presente, l'IMES l'ha più volte indagata, anzi abbiamo indagato soprattutto quella perché poi è fondamentale, non ha solo una dimensione geopolitica, strategica, militare, economica, piano marcia, al Nato, eccetera, eccetera, ma ha anche una dimensione fortemente antropologica, cioè noi a un certo punto, come è ben rappresentato da questo punto di vista dalla letteratura, molto più che dalla saggistica, abbiamo deciso che il popolo italiano, la lingua italiana, la storia italiana fosse illegittima in quanto ha prodotto il fascismo, o peggio, eternamente fascista, e dunque bisognava trovare dei criteri di legittimazione fuori. Questo fuori è stato l'impero europeo dell'America, il che non squalifica l'impero europeo dell'America, cioè questo è semplicemente per dire per quale motivo noi ci siamo antropologicamente direi consegnati a questo veltro americano. Sì, è vero poi che già anche Caraccelo nell'editoriale faceva, diciamo, riferimento a dei passaggi storici in cui questo tratto antropologico, questo tratto culturale, invece non appare, no? Lui addirittura fa riferimento all'impero romano, però si potrebbe anche chiaramente citare il risorgimento, si potrebbe citare anche, se vogliamo, l'atmosfera culturale. Ma nel secondo dopoguerra, nel secondo dopoguerra, l'impero romano è totalmente squalificato da un punto di vista storico, pedagogico, perché c'è l'idea di Mussolini che se ne appropria in maniera... Esatto, no, 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 chiaro, chiaro, chiaro. E no, infatti volevo dire quello, no? Cioè volevo sottolineare che poi, in verità, la sfida è quella di credere, ma ci sono buone ragioni per credere che questo non è un nostro destino antropologico, ma casomai ci sono dei tratti in cui alle volte è un tratto culturale che è apparso ed emerso in certi passaggi storici, ma non lo ha fatto in altri, come ad esempio, appunto, non si diceva, Craccio diceva l'impero romano, però anche nel risorgimento, anche se vogliamo, nel clima culturale della prima e della seconda guerra mondiale, anche se poi con esiti molto inquietanti, no? Però, diciamo, la sfida che ci siamo posti anche qui a Tolina TV è quella di dimostrare che questo non è un nostro destino, ma penso che fosse anche un po' il taglio dell'ultimo numero di Limes, no, no? Cioè combattere un po' questa atmosfera ultrale, poi è tossica e non fa il nostro interesse. No, non fa il nostro interesse anche perché di fatto ci porta a fare una cosa, questo vale soprattutto per il vincolo europeo, ma insomma vale più o meno per tutti i vincoli, questa è una tendenza molto italiana, molto, se più volte ripetutasi nella storia, identificare completamente i nostri interessi con quelli del sistema di alleanze nel quale noi siamo dentro. Cioè noi tendiamo a vedere le cose, strano peraltro, perché non siamo così, però noi tendiamo a vedere da questo punto di vista le cose in maniera tendenzialmente o bianco o nero, cioè noi se stiamo in Europa allora siamo sovrapponibili, perfettamente sovrapponibili all'Europa, l'alternativa è uscire dall'Europa. Ma questo è una falsa alternativa in realtà, cioè si può perfettamente stare in un sistema di alleanze, fare lo stesso per la Nato, condividendo un'impalcatura generale, un'impalcatura anche magari valoriale, di vario tipo, continuando a perseguire i propri interessi, ma non perché bisogna essere cattivi e trattare male partner e alleati, ma perché tutti quanti lo fanno. Cioè i tedeschi non stanno in Europa per portare avanti gli interessi dell'Europa, i tedeschi in Europa portano avanti gli interessi tedeschi, i francesi portano avanti gli interessi francesi, gli italiani portano avanti gli interessi europei, che di norma vuol dire francesi o tedeschi, o in alternativa polacchi. Questo è un controsenso perché, ripeto, in una fase come quella in cui stiamo vivendo noi abbiamo degli interessi nazionali, perché non è una parolaccia, che sono messi in serio pericolo. La presenza russa nel Mediterraneo è, poi noi possiamo dire che ci piace più la Russia dell'America, quello che volete, però dopo di che la Russia ci definisce paese nemico. Se i russi stanno in Libia e se i russi stanno in Siria e se noi esistiamo perché esistiamo proprio letteralmente, nel senso siamo vivi e abbiamo un minimo di dignità economica, questo avviene perché il Mediterraneo è bene o male ancora oggi un mare in cui si può navigare liberamente. Ecco, quindi il nostro interesse strategico è garantire la libertà di circolazione nel Mediterraneo. Benissimo, questa cosa con i russi in Siria, con i russi in Libia e con gli UTI che bombardano e colpiscono le navi mercantili nel Mar Rosso, questa è una minaccia alla nostra sicurezza nazionale che contrasta con i nostri interessi nazionali. Punto. Non è difficile definire da questo punto di vista i nostri interessi nazionali. La stabilità dell'estero vicino è un interesse nazionale, vorrei dire, alimentare. Però ecco, sul lungo periodo mi chiedo se invece però nel nostro interesse nazionale non ci sia quello di appiattirsi come del resto abbiamo fatto un po' negli ultimi decenni sulle posizioni puramente atlantiste, ma quello invece anche di cercare di dialogare, avere ottimi rapporti con le altre superpotenze. Diciamo, come nello stato attuale capisco il ragionamento, ma il fatto che la Russia ci veda come una potenza ostile è data anche da questa congiuntura geopolitica attuale, data appunto poi dalle conseguenze dello scopo del governo. È dato anche da alcune cose che abbiamo fatto e di cui però leggerete nel prossimo numero di Limes, non vi spoilerò nulla. Cose molto concrete. Sì, io sono d'accordo. Certo, uno bisognerebbe dire posizioni atlantiste, che vuol dire posizioni atlantiste? Cioè, posizioni atlantiste, ora io non sono così ingenuo da pensare che la Nato abbia una posizione, cioè le posizioni atlantiste sono tendenzialmente quelle, anche per come funziona la Nato, che decidono gli Stati Uniti, anche perché non è che c'è un'assemblea, forse c'è pure, ma non è che esiste un'assemblea generale della Nato dove si decide. L'America gestisce la Nato gestendo rapporti bilaterali, di fatto questo è. Quindi la posizione della Nato è la posizione che l'America, di volta in volta, negozia con i singoli paesi della Nato. Quando si negozia, e in questo caso ritorniamo al discorso di prima, bisogna avere qualcosa da dire. Quindi noi, Italia, dovremmo mantenendo, questo poi dal mio punto di vista, perché è ovvio che non è che uno può pensare di dire da un giorno all'altro usciamo dalla Nato o usciamo dalla sfera di influenza americana, è più probabile che gli americani escano loro piuttosto che li cacciamo noi, su questo non ho molti dubbi. Però bisogna, nella misura in cui ci troviamo in questo congiuntura, dire guarda sì, ok, perfetto, noi siamo d'accordo su questo, su questo e su quest'altro. Però noi abbiamo bisogno di una maggiore garanzia in questo, questo e quest'altro. Però affinché questo sia possibile, noi dobbiamo avere chiaro quali sono i nostri interessi nazionali. E la prima cosa da fare per avere chiari quali sono gli interessi nazionali è non confondere i nostri interessi nazionali con quelli di qualcun altro con degli interessi eterei, tipo la pace nel mondo. E da questo punto di vista esistono delle aree in cui, su questo vi consiglio di leggere l'articolo di Federico Pedroni, esistono delle aree in cui dovremmo collaborare con gli americani ed esistono delle aree in cui dovremmo prenderci la responsabilità di dire agli americani, carissimi, voi siete tra virgolette in ritirata, volete ridimensionare il vostro impegno all'estero, benissimo, non c'è il problema. Nord Africa ci pensiamo noi, Mar Rosso ci pensiamo noi, Balcani ci pensiamo noi. Voi aiutateci in un'altra maniera, non volete impegnarvi militarmente, non volete sovrestendervi, benissimo. Nello stretto di Sicilia e poi giù per il Mar Rosso fino a Babbel Mandeb passano chilometri e chilometri di cavi sottomarini che garantiscono il collegamento di internet eccetera eccetera. Questi cavi praticamente che fanno? Arrivano dalla costa orientale degli Stati Uniti, salgono fino a Parigi dove ci sono dei data hub, poi scendono, ripassano per lo stretto di Sicilia e scendono verso il Pacifico, verso l'Oceano Indiano e poi il Pacifico. Benissimo, si potrebbe dire agli americani, guardate, questi cavi gestiamoli noi, questi data hub che al momento avete a Parigi, apriteli a Catanzaro, apriteli in Calabria, apriteli in Sicilia, rafforziamo le università STEM in quelle aree lì, aprite dei centri di ricerca di Google, di queste aziende qua, che tanto voglio dire non perdiamo nemmeno tempo sul dibattito ideologico pubblico privato perché Google è più pubblico di quanto è privata oggi ferrovie dello Stato, dati i legami che ci sono tra amministrazione delle big tech e governi. Quindi evitando questo ragionamento ideologico che non è che è ideologico, è semplicemente che non sta nella realtà. Cerchiamo delle partnership su questo con gli Stati Uniti, garantiamoci una centralità in alcune aree, assumiamoci delle responsabilità, facciamo sì che questo possa avere anche delle conseguenze non semplicemente di presenza strategica ma anche, dato che è ovvio che non è che dall'oggi al domani si diventa un paese pronto a sparare in mezzo al mare come fanno i turchi, ma siamo anche un paese che ha bisogno di sviluppo economico, ha bisogno di posti di lavoro, ha bisogno di ripopolare il sud, ingiovanirlo. Cerchiamo di mettere tutto questo insieme in un quadro strategico per ripensare il rapporto con gli Stati Uniti e questo è già qualcosa. Però bisogna avere chiaro il fatto che i nostri interessi, per esempio nel Nord Africa, sono diversi da quelli francesi, per dirne uno. Chiaro, chiaro, chiaro. Sì, su questa dimensione strategica, che è poi la dimensione di come l'interesse nazionale, l'interesse strategico può essere declinato, poi possiamo avere diciamo, autolina opinioni differenti dall'IMES. Però quello che mi sento di condividere è quest'idea che anche solo ricominciare a parlare di queste cose è un progresso culturale, è un passaggio culturale che va in qualche modo fatto e che questa cultura del vincolo esterno, questa cultura del suddito, se vogliamo, ci impedisce in questo momento di farlo. un po' parte della, diciamo, anche della precondizione per far sì che l'Italia in qualche modo poi possa riprendere il proprio destino in mano. E per concludere ti volevo chiedere questo, come, diciamo, chiaramente è una domanda difficile, però come è possibile invertire questa, diciamo, questa tendenza e secondo te, appunto, creare questa precondizione, questa atmosfera, questa nuova, diciamo, atmosfera culturale che si lascia alle spalle, quella del vincolo esterno. Questa è una domanda da, chiaramente è la domanda da un milione di dollari, innanzitutto facendo quello che tu hai detto, parlandone, perché noi ci freggiamo tanto del titolo di democratici che giustamente, effettivamente, siamo opposti a autocrazie, eppure noi non discutiamo dei nostri interessi nazionali e tendiamo a non parlarne. Invece penso che queste questioni debbano essere oggetto di dibattito democratico, certo è chiaro, non è che sono nato ieri, queste sono decisioni che vengono prese dagli apparati, dagli apparati di sicurezza, che non è che voglio una discussione democratica di quello che decide l'intelligence, non sono un pazzo, ma innanzitutto avere un dibattito pubblico che ponga all'attenzione il fatto che noi abbiamo dei chiari interessi nazionali, che dobbiamo in qualche modo farli rispettare, che quindi dobbiamo lavorare affinché innanzitutto definiamo questi interessi nazionali, penso che possa essere un punto di partenza, direi, inevitabile per quanto riguarda il tentativo poi di proiettarsi verso una qualche forma, non dico di indipendenza strategica, perché neanche gli americani sono strategicamente indipendenti, hanno bisogno anche loro degli alleati, però verso una qualche forma di esistenza geopolitica. Questo è prima cosa. Secondo c'è da fare i conti con la nostra identità nazionale. Questo significa riscoprire una storia italiana che non è fatta esclusivamente di divisioni. Io scherzando nell'articolo dico, beh, noi ci raccontiamo come un paese diviso, poi l'ho scritto nei giorni di Sanremo l'articolo, quindi sentivo le polemiche su Geolier che non ha vinto in quanto napoletano e queste sciocchezze qua, e io dico, beh, meno male che litighiamo su questo, perché penso se litighiamo sulle cose serie, in Germania litigano se era meglio stare nella Germania Est o quella di adesso, meno male che qui adesso sì ci saranno quattro nostalgici del fascismo, che però mi sembrano fondamentalmente innocui, non perché dicano cose giuste, ma perché tendono al ridicolo più che al pericoloso. Quindi, insomma, siamo divisi sul calcio, sul festival di Sanremo, su qualche altra sciocchezza, ma bene o male condividiamo in maniera, direbbero con i miei amici filosofi, precategoriale un qualche sentimento di cosa significa essere italiano. La storia che un calabrese e un milanese non si riconoscono come italiani è una sciocchezza, ve lo dico con certezza, perché in questo momento io sono in Inghilterra e riconosco a 30 metri gli italiani, ci riconosciamo in un attimo. Quindi anche cercare di andare a, oltre queste, questa narrazione non solo dell'Italia, avendo bisogno sempre di un dominus esterno, ma anche oltre l'idea degli italiani, popolo diviso, che non si capisce, di uno Stato senza nazione. No, l'Italia non è uno Stato senza nazione, è uno Stato nazionale, unito e tendenzialmente anche omogeneo sotto molti punti di vista. Può essere un bene, può essere un male, ma innanzitutto questo significa che non è vero che stiamo sempre a litigare tra di noi su tutte, quindi non abbiamo bisogno di qualcuno che dall'alto ci dica cosa fare. Ogni consiglio è ben accetto, ogni alleanza comporta prendersi e assumersi delle responsabilità nei confronti delle persone con cui ci si allea, ma questo non significa rinunciare completamente a se stessi, e poi da ultimo bisognerebbe portare avanti un processo pedagogico, questo è evidente, che insista sulla legittimità storica dell'Italia in quanto nazione. Quando Caracciolo fa riferimento nell'editoriale all'impero romano, non è la battuta quante volte al giorno pensi all'impero romano, quando fa quel riferimento Caracciolo intende dire guardate che è da Augusto che noi questa penisola la chiamiamo Italia e da più o meno gli stessi confini. Cioè l'Italia non è un'espressione geografica. Essere italiani significa qualcosa, è una forma di vita sotto certi aspetti, che comporta delle attese, comporta delle premesse, comporta delle conseguenze, buone o cattive che siano, cerchiamo di limare quelle cattive, cerchiamo di concentrarci su quelle buone, ma siamo consapevoli di non essere un qualcosa che può essere completamente diluito in delle strutture altre rispetto a noi. E questo non vuol dire fare un discorso identitario o fare un discorso, come dire, nazionalista. L'Italia non deve chiudersi nei suoi bei confini riparata dalle Alpi, dire noi siamo meglio di tutti e adesso vi facciamo vedere chi siamo ora che riscopriamo essere italiani. Questa è la farsa mussoliniana ridicola sconfitta dalla storia. L'idea di riscoprire un sentimento comune di appartenenza all'Italia senza che questo si tramuti in nazionalismo significa semplicemente pensare di essere delle persone che condividono una comunità di destino e che bene o male avere degli interessi strategici, degli interessi nazionali e la necessità di agire per preservarli, perché nessuno lo farà al posto nostro, non significa volere la morte degli altri, ma quantomeno la nostra sopravvivenza in una fase come questa che invece la mette effettivamente a rischio e che soprattutto, e poi lo concludo, permette se declinate in una maniera strategica, facendo determinate cose rapidamente, magari non facendone altre, per esempio non facendo l'autonomia differenziata, quello potrebbe essere un buon punto di partenza, permette ulteriormente di unire il paese in una dimensione che lo renda più competitivo, non più forte, sullo scenario internazionale e la conseguenza di questo non è altro che, secondo me, nella misura in cui garantisce poi anche un miglioramento delle condizioni economiche e materiali delle persone, garantisce anche un più efficiente funzionamento della democrazia italiana, quindi non è nessuna tentazione autoritaria, riconoscere gli interessi nazionali dell'Italia, le sue posizioni strategiche, la necessità di un dialogo franco e non da sottomessi, diciamo così, con i partner europei e quindi la possibilità di inserirci in determinate catene del valore, di attrarre investimenti, di essere centrali in un processo di rinegoziazione dell'ordine mondiale permette una crescita della stabilità politica, dell'economia, della dimensione materiale della democrazia che poi è ciò che gli permette di essere effettuale e non belle parole. La democrazia esiste se le persone vedono una reale speranza di miglioramento della loro esistenza, altrimenti sono chiacchiere e io penso che affinché questo possa essere raggiunto c'è la necessità di un riposizionamento geopolitico, non c'è solo la necessità di un riposizionamento geopolitico che, stavolta concludo per davvero, non significa, dal mio punto di vista, lasciamo la Nato, andiamoci a far pagare dai cinesi, facciamoci comprare il debito dei cinesi, ma significa avere un rapporto franco con quelli che sono attualmente i nostri alleati, mettersi a disposizione dove è possibile, reclamare più spazio dove ci serve in modo da poter portare avanti quelli che alla fine sono gli interessi nostri e non di qualcun altro. Mi sembra una posizione abbastanza equilibrata da questo punto di vista. Chiaro, chiaro, chiarissimo. Giuseppe grazie mille per questa conversazione, io spero ci saranno altre occasioni e poi insomma la speranza è che appunto da più parti si continui o si cominci a lavorare appunto per dimostrare che questa cultura del vincolo esterno non è un destino. Io saluto tutti quelli che ci hanno seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!